Paura oggi a Teramo quando al di sotto di un'auto parcheggiata in via Getulio si è aperta una vera e propria voragine. L'episodio è accaduto intorno ad ora di pranzo e col senno di poi è possibile affermare che poteva andare molto peggio. C'è voluto il carro a Trezzi per riuscire a tirar fuori la vettura dalla voragine, in quel momento per fortuna senza conducente all'interno. Nelle case vicine in tanti hanno sentito il crollo e affacciandosi dalle finestre hanno notato l'auto sospesa nel vuoto. Diversi i curiosi che si sono fermati ad osservare la voragine profonda circa 3 metri all'interno della quale si intravedono i resti di un vecchio pozzo. Sul posto l'intervento tempestivo dei vigili urbani insieme ai dipendenti del comune e vigili del fuoco che hanno transennato la via ora chiusa al traffico. Il maltempo degli ultimi mesi ha sicuramente aggravato le condizioni di molte arterie già deteriorate e abbandonate da anni. Le strade si presentano con pericolosissimi avvallamenti e chiazze di asfalto marridotto, ma i 1700 chilometri di strade del territorio terramano continuano ad essere manutentate a fatica, soprattutto nell'entroterra e nelle zone montane, tanto che i sindaci non sanno più a che santo rivolgersi. Buche, pozze, asfalto crepato quando c'è, insomma, le vie della città, tanto in centro storico quanto nelle frazioni, sembrano uscite da un bombardamento e ancora oggi continuano a creare danni, paura e polemiche.